Con un carattere clown, questo personaggio, come sempre io, non un'altra cosa, devo trovare la sua parte, essentrico, la sua parte di umarismo, la sua parte presente, qui senza centro intellettuale ancora. Tutti questi lavori che noi fanno, noi non ne pensiamo, non fa piano, ma fa attenzione che è successo. So, che voce di centro mentale che dice comodo o scomodo? E questo devo ancora sentire molto bene. La stessa voce che dice, circunstancias, scomodo, sì, due stranieri, va via, dove comodo? Come comodo! Sì, è così, è questa voce, si dice, no, devo sentire questa voce e sviluppa anche capacità, assolutamente in questi casi, quando vuoi fare performance o fare un lavoro, comodo, scomodo. Comodo, che significa tutto a posto, scomodo, sì, significa, non tutto a posto, qualcosa non è giusto. Devo gestire e dopo così iniziare. Lo stesso lavoro qui, il carattere di clown, chi è un clown, che cosa è un clown. Io sono un clown, io sono un clown, sono io con il naso, perché il naso, perché il naso aiutano i miei sentimenti. Un po' cambia, un po' cambia, la stessa cosa, molto sensibili, questo molto sensibili, questo non è maschera di carnavali, solo ma... Uccide tutto, molto, 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 molto gentili, con attenzione, guarda che è successo qui, che arrivo da questa parte, a questa parte. E dopo così, dopo il naso, tutto il corpo, anche, un po', ciac, 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 ciac... Aggiustare, per il naso, perché il naso qui è come il centro del vostro corpo. E tutto il corpo... Ancora, un misterio del corpo, della nostra abilità, l'istinto, anche. Tutto qui, involvere in questo processo di... Perché qui, il nucleare, ancora, e questo è la pasta. Che sugo vuoi mettere, e questo è così. Ho sbagliato il sugo, ho sbagliato la pasta. Molto gentile. Molto gentile. Lento, delicato. Lavoro molto delicato. Qui. Ma per ora, facciamo così. Cerchio. Cerchio perfetto. Sempre perfetto. Cerchio perfetto. Cerchio perfetto. Cerchio al sito? Sì, cerchio così così. Per domani devo creare una poesia. Scrivo una poesia. Piccola. Non tanta. Questa è la conclusione del nostro Open Class. Tutti voi, senza il naso, leggi vostra poesia. Un tasco, un folio e leggi poesia. C'è esperienza, non è esperienza, non è importante. L'importante è la capacità per la poesia in generale. Perché la poesia è possibile fare, come si chiama, options. Una cosa che è possibile assumere. 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 Assumere esperienze. Riassumere esperienze. Sentimenti. In poche parole. E per questo motivo. Il clown e la poesia sono molto vicini ai pensieri. Perchè la nostra arte è un po' simbolica, metaforica, eccetera, eccetera. Metafora, simbolo. Bisogna questo tipo di pensieri. Come in poche parole dice qualcosa interessante, grande, eccetera. Come si chiama, come favola, come piccola favola. o come barsaletta. Poche parole, ma tantissime cose possibili in barsaletta. Tutte queste forme di arte vicine all'arte del clown. Rispondono a questo tipo di pensieri. Anche caricature. Rispondono a questo. Cartoon. Perchè ancora. Tempo non è tanto. Piccola cosa. Due o tre minuti. E tutta storia. In questo aspetto. Questo molto vicino. Ora, noi facciamo il nostro... Prima di tutto, facciamo il nostro esercizio per attenzione. Numero uno. Atenzione sui problemi. Intellectuali. Atenzione qui. Numero due. Numero tre. Numero quattro. Uno. Veloce. Ferma. Due. Quattro. Due. Uno. Tre. Tre. Ok. Riscaldamento individuale. Perchè non c'è tempo per grande. Riscaldamento individuale. Tutti i nostri collegamenti. Devo riscaldare. Ok. 5 minuti. E dopo. Maestri del corpo. Maestri del corpo. Comello. 4 minuti. Grazie. 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 Un momento. La tecnica di... Serpente. La tecnica di serpente. Tutto il corpo morbido. E come finale. Morbido, morbido, morbido. Morbido, morbido, morbido. Morto, morbido. Morbido,ельus. yetori run Oh Il corpo morbido 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 come serpente e finale Il corpo morbido 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 Il corpo morbido 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 look력 Nogano, возду, morbido morbido roto che morbida 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 tutto 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 ok cerchio perfetto prendi ostre nazi non mettere cerchio perfetto soltero nato soltero perfecto hare krishna hare krishna Grazie.